Una razza di pecore Karakul è il nome di una razza di pecore allevata nell'Asia occidentale. Da queste pecore si ricavavano le pellicce di lusso Breshbans e Astrakhan. Non parliamo poi degli animali uccisi per la loro pelliccia. Perché adesso la pelliccia è indossata sempre meno? Commento Perché l'evoluzione media ama sempre meno sfruttare gli animali? Rimandare o non sciogliere la causa interiore per cui desideriamo indossare una pelliccia animale ci allontana verso il basso della media evoluzione. Grazie 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 Grazie